Un saluto dal Tg della Mobilità Metro B per la sostituzione di scale mobili e ascensori. Lo ricordiamo, sono chiuse le stazioni di Castro Pretorio e Policlinico. Come alternativa di trasporto, ATAC in aggiunta alle linee ordinarie è attivato anche una navetta bus di supporto, la MB20, che viaggia tra Termine e Tiburtina confermate proprio davanti alle stazioni di Castro Pretorio e Policlinico. Le altre notizie, gli orari del trasporto pubblico per oggi 31 dicembre. Bus e tram si fermeranno alle ore 21. Per le tre linee della metropolitana invece le ultime partenze dai capolinea saranno alle 23.30. Sospeso il servizio dei bus notturni.